Aglie, dopo l'incontro per invitare all'astensionismo organizzato dal sindaco di Fabria Serafino Ferrino, un'altra tavola rotonda diametralmente opposta, è stata organizzata dal sindaco di Aglie Marco Succio, un confronto tra alcuni amministratori locali e il vicepresidente della provincia di Torino, Alberto Affetta, candidato a rappresentare il territorio alla città metropolitana. Abbiamo voluto organizzare questo momento di confronto tra amministratori e Adetta, spiega Succio, per cercare di capire i motivi, che hanno spinto verso l'astensionismo, riteniamo sia importante votare individuando chi rappresenterà il territorio in questo nuovo ente, capisco il disagio dei sindaci, aggiunge Adetta, ma dobbiamo far sentire la nostra voce.